Le immagini riprese da un drone russo mostrano il primo carro armato ucraino, Leopard 2, distrutto in combattimento. Dopo essere stato bloccato in un campo minato, il carro viene colpito dall'artiglieria russa. Siamo nella zona di Zaporizia, dove da 24 ore si sta combattendo una battaglia che il presidente Zelensky ha definito brutale. Le notizie che arrivano dal campo sono poche e contraddittorie. Gli ucraini sostengono di aver conquistato alcune postazioni controllate dai russi e questo darebbe modo alle loro truppe di avanzare. Il comando militare di Mosca sostiene invece di aver respinto l'attacco, infligendo gravi perdite al nemico. Le prime mosse della controoffensiva ucraina hanno aperto molti fronti. Si combatte a Liman, Bakhmut, Avdivka, Marinka. Forti esplosioni questa mattina sono state udite anche alla periferia di Kharkiv. Al momento impossibile verificare cosa stia succedendo, l'unica certezza è che la guerra è entrata in una fase nuova, molto più dura e cruenta. I bombardamenti non risparmiano neanche Kherson, la città allagata dopo il crollo della diga Kakovka. Il governo ucraino accusa i russi di colpire i punti in cui vengono portate le persone, che anche in queste ore i soccorritori stanno evacuando dalle abitazioni finite sott'acqua. Questa è la conversazione telefonica intercettata dai servizi segreti ucraini dimostrerebbe la responsabilità dei russi per la distruzione della diga. Due ufficiali di Mosca direbbero infatti che è opera di un loro gruppo di sabotaggio, avrebbero voluto spaventare la gente provocando un danno limitato, ma le cose sono andate storte e la diga è venuta giù.